Signori siamo tornati su Clash Royale per innanzitutto missione Coppa del Re perché Signori la sfida che volevo tanto è arrivata La sfida Coppa del Re Facciamoci qualche partita Vediamo un po' che deck ci danno Pratico Sally Goblin Salty Goblin Allora Mettere questi pipistelli qua Mettere questi pipistelli qua Il doppio il cannone qui metto Mettere questi pipistelli qua Mettere questi pipistelli qua Mettere questi danni E basta un po' o... Mettere questi pipistelli qua Mettere questi pipistelli qua Cavolo Cavolo Mettere questi pipistelli qua Mettere questi pipistelli qua Mettere questi pipistelli qua Mettere questi pipistelli qua E prima l'abbiamo vinta gli mettiamo bella giocata a Giuliano chissà lo Siren Blade io le voglio queste 5 gemme soprattutto queste ravi misteriose perché io vorrei i tre moschettieri vorrei eppure vabbè facciamoci quest'altra Sparky Masters il maestro della scintilla vabbè non serve dirlo perché già lo sappiamo che Sparky Scintilla e Master e vabbè mettiamo 5 danni importanti pecca pecca sopravvivi si è sopravvisto mamma mia tre scortrini che cosa possono fare al mio mega pecca direi che è un po' di hit e gliel'abbiamo fatti ancora 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 troppe hit cioè troppi danni no stavolta non mi posso permetterlo no stavolta non mi posso permetterlo allora mo lancerà la razza ah no era quello di prima che avrà la razza tu pianciano questo bel pecchino con questi bei pipistrellini E che cavolo L'ha tornato E gli facciamo anche La seconda torre Ammettilo che si è sfacciato un po' Cioè hai già perso Non vedo quanta pita c'ha il minatore BOOM dai coi colpi Fai gli danni Niente il pecca non c'è No 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 Stavolta no Dove chiedi andare Dai Dai 3 colone E spero che ci sia il primo premio Questo qui è il primo episodio Missione Coppa del Re Fai un po' vedere che cosa si vince con 20 gemme Sfada Infocata Utile Allora Altre Penso due partite Tower Tornado La torre di Tornado Non sono un inglese oppure uno spagnolo Lui parte così Di Guarda più cose Il boscaiolo Cancia un altro Regone di ghiaccio così Fanno i danni I danni proprio Intanto quel dovatore sta facendo veramente Un botto dei danni Cioè No Volevo solo vedere No Sf 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 Ho vinto Mancano solo due corone per concludere l'evento Comunque ci vediamo dopo che ho vinto Ho tagliato se no non riuscivo a fare l'ultima Ok ragazzi Solo due corone Signori Solo due corone colone intanto abbiamo il baule che ce l'apriamo a fine video ultime due colone ragazzi e abbiamo anche la sera notturna anzi è il deck dell'immagine del coso per il fattore di desiderio è un bot che non lo uso bravissimo dove parte così beh anche io parto di cattiveria dai se me la ricali pure la vittoria grazie grazie mille lanciavo un cucciolo di saco qua per difendere ma intanto sono solo due spear goblins lanciavo la strega notturna la nuova leggendaria che ormai è da maggio che è uscita cioè non l'ho visto carichiamoli di sì per difendere vabbè vabbè it's loser ho perso ragazzi ci vediamo la prossima partita o forse no dai l'ultima corona dai che taglie andiamoci a prendere l'ultima corona va bene niente congratulazione hai vinto ok adesso taglierò finchè non finirò la partita così ci mette poco a caricarsi il video signori abbiamo completato l'evento ci vediamo all'apertura della fine gemme al prossimo episodio faremo questo che ci da tutto oro vediamo un po' quanto costa questo la nooo gratis è mio è mio trovi questo baule e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao